Dal 19 al 24 luglio si terrà la terza edizione del Castellabate International Film Festival, una festa del cinema realizzata nel borgo cilientano di Castellabate dall'assessore all'istruzione del comune Elisabetta Martuscelli in collaborazione con la dirigente Gina Moriello dell'IC Castellabate e il regista Gianni Petrizzo. Da come si evince dal sito ufficiale si tratta di un festival per cineasti indipendenti provenienti da tutto il mondo i quali esprimono la loro fantasia, creatività e idee attraverso i film a tema libero. La manifestazione cinematografica quest'anno si svolgerà presso il Castello dell'Abate dove verranno proiettati lungometraggi, cortometraggi, documentari, film d'animazione, videoclip, social film e sperimentali. Una sezione speciale inoltre sarà dedicata alle scuole di Castellabate che ogni anno realizzano cortometraggi su tematiche di interesse sociale. A loro il premio Flora Guida. La manifestazione prevede anche una serie di attività rivolte ai più piccoli e sarà l'associazione culturale Lumina Mundi a gestire l'organizzazione delle attività insieme a Gian Pietro Marra, il quale si occuperà anche del laboratorio di magia. Gli operatori sono esterni all'associazione ma reclutati dalla stessa. Inoltre il presidente dell'associazione Chiara Miranda gestirà anche il laboratorio di teatro. Le attività saranno le seguenti. Favoli Ogando con Ilaria Napoli, lo yoga attraverso il gioco e un movimento sano dalle ore 9 alle ore 10 e 30, dal 19 al 23 luglio. Corso di teatro con Chiara Miranda, esplorazione e ricerca nel mondo delle emozioni attraverso il teatro dalle 10 e 30 alle 12 nei giorni 19, 20 e 22, 23 luglio. Storytelling a colori con Valeria Derienzo per creare e condividere storie attraverso i linguaggi dell'arte pittorica e della narrazione dalle ore 10 e 30 alle ore 12, dal 19 al 23 luglio. Corso di magia con Gian Pietro Marra, imparando la magia e mettendola in scena dalle ore 15 alle ore 16 e 30, dal 19 al 23 luglio. Country dance con Matilde Napoli, un ballo di formazione per essere come veri cowboy dalle ore 16 e 30 alle ore 18 nei giorni 19, 20 e 22, 23 luglio. Animazione 35 megahertz creando momenti di puro divertimento dalle ore 16 e 30 alle ore 18 nei giorni 19 e 20 e 22, 23 luglio. E infine spettacolo clown con l'associazione RNCD, il circo di campagna più pazzo che ci sia senza animali ma con buffissimi clown dalle ore 16 alle ore 18 solo il 21 luglio. Si tratta di un evento che vedrà coinvolti i residenti e turisti, le associazioni, le attività imprenditoriali e i giovani del territorio. Grazie a tutti.